Ho fatto la partita della storia e non la vedeva nessuno Ma sta, sta, non, vedete, comunque è ripreso da andare un po' malino Questa volta qual è la tua strategia? Vedete che lagga un po', comunque È come se quando c'è da fare le cose io abbia dei mini lag Non dirlo agli altri, ma faccio il tifo per te Se lo voglio riavviare Cioè, non capisco Oh, la battaglia è in furia là fuori Niente YouTube, l'angre che vod Nooo, nooo O io qua frizzo La coppia di Sarelemental Stai andando bene Mi sembra forte No? Puoi caricare un video di 30 secondi in cui mostri la comp Flexandola al pubblico di YouTube Cioè io non ci credo che Cerco quella comp da inizio Da quando è uscito il gioco C'è da quando sono usciti i cinghiali E non Che fama Circa Controllo del temperatura del PC Processore, scheda video, scheda madre E cch Tiamate il Il coso È da qua che si vedono le temperature Non lo so Come funziona Come si fa Eccosi Come va là fuori Boo Non ci capisco niente io di sta roba Non so se si è capito Ah ce l'ho il gestionale Della scheda madre E voi sarete i prossimi Mettite il nodo vicino al case Continua così Vabbè Vabbè Speriamo sia una cosa normale Perché adesso vedo il bitrate normale Ah è così che si tiada È così che si fanno i trade Ok Questa è una tripla È una bella tripla Dove la facciamo? Va assolutamente fatta al prossimo tour Stai andando bene Io li ho messi gli FPS e le Block Options Li ho sistemati quelli C'è sto già a 28 no? C'è 28 Sto già a Non so sotto 20 A turno 5 Non posso permettermi Non triplare il prossimo turno Ah non fa niente Capita a tutti ogni tanto Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il distruttore Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Chi lo sa Con questo shop Cosa era meglio Cioè lo shop è chiaramente forte per tutti e due No? Era forte sia per Argam che per Anomi Però per Anomi era particolarmente forte Vediamo Sto pensando di togliere lui proprio per questo motivo Dovresti anche smettere i baffati Lui via Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il distruttore Si frizza questo? Perché ne abbiamo anche trovati Lobby vinto È troppo presto Per dire lobby vinta Ma siamo messi bene Siamo sicuramente messi meglio di questo Di quest'altro ereno Ecco Ci sono i veleni Poi se lo tolgo lui Tengo da una chance A quel elementale lì So che potrebbe sembrare una poichieria E poi se lo è Vabbè Mezzo e mezzo Eh poteva andare molto meglio Cioè potevo trovare un'altra Anomi O O la 4 e 4 elementale Guarda Torni lo scuro piccolino Vai Nat Beagle Un elementale No Nat Beagle Dai Ma tu Tu da lì Dovevi spawnare elementale Ma scusami Se avessi messo Beagle primo Forse faceva un secondo attacco Gran bel lavoro Mantieni la pressione Incominciare Tutti insieme Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Bah stiamo fermi Ecco Ecco l'unico problema Ecco l'unico problema è lo scudo lì sopra Con lo scudo lì sopra Perzi Applausi a Silvan Solo grandissimi applausi per lui La battaglia in furia La battaglia in furia là fuori Sempre meglio avere qualche servitore da giocare Dovevo toglierlo prima Ecco lì sopra Eccoti una moneta d'oro Mettiamo un bumper Eeeh Più o meno Più o meno va bene Scendo per scendo Scendo per scendo E' già tempo di cercare self E' sempre gli altri cicloni Adesso io avrei bisogno dei cicloni Ed è la type la sua Ok Sette mesi di te e di me Il problema qua è che potrei perdere Sono grosso eh Attenzione Sono grosso Se in un turno però Io vorrei Vorrei livellare perché Perdo un gold Potevo mettere il pezzo subito Sapete Mori Mori Ok Eh come faccio a perdere A turno unici con sta board Hai capito Eh come faccio Perdo un gold Mi va bene perdere un gold Se c'è la quest Vinci la Tverna 4 Io voglio rimanere la Tverna 4 Penso sia evidente Posso vendere lui Perdo un lontano E' la quest'è la Tverna 4 Perdo un'lontano E' la quest'è la Tverna 5 Va bene I cicloni non sono usciti Però Però secondo me la board è sufficiente La board potrebbe essere sufficiente 4-3-7-2-9 No dai non l'ho ucciso Servianame è A.F.K È A.F.K Mr. Servianame Dammi un'altra tipa di questo coso Dammi un'altra tipa Un'altra a 100-100 voglio E dai Niente mi devo accontentare Già si è salvato prima Il signor Servianame Se ti rendi ora vinco Credo Cioè no se mi rendo non lo so Se però lascio zero pezzi Penso di vincere Si è reso Sì 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 Si vinco anche se lascio zero pezzi Ha quittato per andare a piangere Dai non è così tanto piangino No non è vero Sti rendi vinci Ci ho provato No no ma è vero è vero Non è vero 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 è Grazie.